Se qualcuno aveva giudicato una battuta infelice, quella del premier Renzi a Teramo, i rappresentanti del Partito Democratico non la pensano nello stesso modo, anzi chiedono al loro più alto rappresentante, Matteo Renzi, di chiedere scusa ufficialmente all'intera città di Teramo. Sappiamo che è stata una battuta magari dettata da troppa leggerezza e probabilmente imbeccata anche dalla platea, però in un momento così complicato per la città di Teramo, nel senso che anche se la questione sembrerebbe puramente sportiva ma di fatto coinvolge emotivamente tanti teramani, noi avremmo preferito che non ci fosse questa battuta. In particolare non è intervenuto nessuno del PD all'Aquila sulla questione? Guardi, io non ero presente lì, quindi non posso dirle dettagli di questo genere. Mi hanno raccontato, ripeto, che qualcuno magari in maniera lieve dalla platea ha lanciato l'imbeccata e il premier ha parlato del Teramo, della Fiorentina, poi quello che risulta in maniera evidente invece è che lui abbia detto qualcosa relativo ai tifosi teramani e a questo noi è un po' spiaciuto.